Il Consiglio Comunale ha decretato, ha fatto chiarezza, che era quello che insomma ci aspettavamo all'inizio e alla presentazione di questa mozione di sfiducia, perché era chiaro, era ben chiaro che il concetto di mozione di sfiducia non era solo una mozione di fiducia per mettere fino all'amministrazione di Palomba, ma era bensì un momento di chiarezza all'interno dell'assise comunale. Oggi è evidente chi vuole continuare a galleggiare e chi invece ha provato a staccare la spina, a iniziare un percorso nuovo. La verità è questa, bisogna iniziare un percorso diverso, un percorso nuovo e quindi ripartire magari da chi è stato propositivo e si è messo insieme al di là degli schieramenti politici e al di là dei colori, provando effettivamente a dare una svolta alla nostra città, perché è evidente lo stato di abbandono e di degrado che si respira in città, è evidente che la mancata programmazione di questa amministrazione. Stiamo, rischiamo e stiamo perdendo tante opportunità attraverso i fondi PNRR, perché che se ne dica, ad oggi abbiamo saltato già diversi bandi che potevano e dovevano incidere nel futuro della nostra città. Quindi adesso è il momento di ripartire, adesso è il momento di provare a stare insieme e quindi l'appello va fatto a tutte le forze civiche, politiche, a tutti coloro che vogliono impegnarsi per provare a fare qualcosa di nuovo per la città, qualcosa di buono. La verità è che ci abbiamo provato cercando di staccare la spina a questa amministrazione, non ci siamo riusciti, non è sicuramente uno smacco ricevuto, ma è un punto di partenza. Partiamo da qui e cerchiamo di stare insieme, perché solo così e progettando il futuro della città è che possiamo veramente provare a ripartire e a dare un futuro degno alla città di Torre del Greco, che ricordo è la quarta città della Campania e non merita questi teatrini e questi show che spesso purtroppo abbiamo sopportato in questi anni. È forse la fase finale del percorso politico-amministrativo dell'amministrazione uscita vincitrice dalle elezioni e quindi da qui è la fase finale che non dobbiamo sbagliare, non dobbiamo sbagliare nel percorso futuro, non bisogna sbagliare sia per le future programmazioni, ma soprattutto non bisogna restare fermi e quindi non cogliere questa opportunità che ci viene data nel 2023 di costruire un percorso nuovo che sia diverso da quello degli anni passati.